ma mamma devi dì no? che cazzo stai a far là su? come vedi? illuminazione natalizia? no, la retta al letto è bruciata tanga da azzo, scarsa qualità? eh vabbè sono tre anni eh? eh no allora dopo tre anni ci vuoi alle vicende del pit stop succede anche questo ho perso il nastro isolante però hai perso? sì, occhio che adesso non lo trovo più notare il sistema di sicurezza che ha messo qua segnalazione di sicurezza le sedie è ufficiale guarda va la mia stazione di servizio è differente non c'è un cazzo da fare questo è? eh? è così guarda c'è pure l'aereo che ti passa dietro guarda guarda che belle immagini che ti faccio qua 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 ti faccio proprio la foto tangata è fatto? è fatto? è fatto sta a fare la doccia d'aria che sta a fare? la tua stazione di servizio è differente fanno anche le docce di aria guarda guarda la doccia dell'aria laviamo anche le persone qua siamo proprio differenti qui eh vietta a prendere una cosa no? tangata ma dove stai scusa eh? stai col ferro mazzo mazzo ci abbiamo il ferro ciao ci abbiamo il ferro qua grazie guarda va eh video nel video video nel video scusa ma dove stai? facci capi guarda che a 2 facci capi ma dove stai? il cameraman qua è ma dove stai? Sergio è Sergio stazione di servizio all'aria ciao 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 oh grazie fantastico facci vedere il ferro facci vedere il ferro dove è? scusa ma facci capi ma quindi stai non pare aspettate un secondo su si vai eccoci ma scusa ma stai lontano che ora rientri? aspetta 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 no lascia perdita appicciallavano si immagini no lascia perdita ma che scherza questo cammino mannaggia la serpaccia ahahahah ma non è che sta spingare chissà sta metà tappacà allora eccoci gioca non ti apposto ma dove stai in questo momento a capo stai a cosa a casino dove stai? la situazione di servizio del anno piappacissa inizio del cripale delle balabarbera ahahahahahahaha questa mattina è una giolamatoschera è stato un rientro è un rientro molto molto pesante è una pazza è una pazza non mi purché no va bene domenica si va? domenica si ostre caro ostre caro ostre caro alla grande alla grande ecco sono di ripartenza sono di ripartenza va bene ciao ciao per Dio goldwind no eric questo adalah erika cookek San Antonio cd 500 ecco la scusa che è niente 7.50 2.50 afrika twin afrika dei nad centers e che è il cross turner 2 poi passa da qua, passa alla Honda Enduro. E perché sta cosa Eric? Chiamiamo subito la Honda. Ah ma stai a fare lì! Chiamiamo subito la Honda. È un errore. No, dice che forse andava fuori sì. Cambiamo subito la moto. Invece l'hanno remessa. Non c'è. Come lo definisci sta affronto? Un affronto da lavare con il sangue o con la benzina. Va cambiata subito. Dobbiamo fare questo commento sul Natale, Eric. Che ci mangiamo a Natale? L'impossibile. E che ci mangiamo a Natale? Nostro Signore. L'impossibile. E come stiamo poi il 26 seduti ancora? A respirare. No, il 27 si respira. Il 24, il 25 e il 26. Io inizio il 23 e festeggio la laurea di Eric. Ah, è vero. Poi il 24 a vigili. A pranzo il 23? Il 23 a pranzo. Il 24 vigili a casa mia. A casa tua. Il 25 a casa da Felice, mio cognato e Mirella. Tancata. E la sera da mamma. Tancata. E il 26 di Santo Stefano da mia suocera. A De Fiori. Tour de Forze. Chi più ne ha più ne metta. Bottoni ha dei pantaloni proprio chiederanno pietà. Ti do un consiglio. Mettete la tuta. Elastico. Allora, ragazzi, buonasera. Volevo fare una precisazione. Questo uomo qui, questo, questo qua, che purtroppo domenica non può venire per l'aperitivo in moto, perché giustamente c'ha degli impegni. La giustissima causa. Onore. Chiaramente sono giustificati. Allora, visto che non può venire, proporrei il 24 sera, quindi prima di cena, insomma, un aperitivo per i saluti e per il festeggiamento del Natale. Aiuto, fatemi capire. Aiuto, Matti. Aiuto, Matti. Quindi. Avete capito. Avete capito. Quindi, con l'occasione, con l'occasione, saranno presenti dei cadeaux, dei cadeaux, giusto? Sì, cadeaux. Dei cadeaux e un panettoncino portato da me, ce lo mangi. Ah, no, no, no. Lo offro io. Lo posso portarlo io? Cioè, ci maniamo, no? Cioè, leggo, dicci via. Quindi, mi raccomando, mi raccomando, domenica mattina noi usciamo, ci facciamo l'aperitivo e va bene. L'aperipranzo, dice il capitano. L'aperipranzo. L'aperipranzo. però questo uomo qui visto che non può venire per lunedì lo dobbiamo comunque gratificare del nostro augurio in modo e veniamo veniamo in modo per farlo un po' farci sci la bavetta vale per tutti eh mi raccomando tutti presenti diciamo per le sette come al solito anche prima appuntamento non mancate se no ci incazziamo ci alteriamo ci inquietiamo ci inquietiamo ok